Perché la scelta di Patrizia Bisinella sindaco? Sicuramente Patrizia Bisinella nella sua carriera politica ha già dimostrato di avere una certa esperienza ed è una persona per cui preparata ed è quindi in grado di poter garantire al Comune di Verona un'adeguata competenza al fine di gestire al meglio la cosa pubblica di tutti noi veronesi ma soprattutto di poter continuare con l'eccellente programma del sindaco Flavio Tosi che insomma è sotto gli occhi di tutti, vedere come la città di Verona è stata trasformata negli ultimi dieci anni e appunto Patrizia Bisinella siamo convinti che è la persona adatta per poter continuare questo eccellente lavoro. In cosa si differenzia la vostra lista rispetto ad altre? Quali sono le caratteristiche pregnanti appunto? Beh sicuramente lista Amaverona è una lista civica fatta quasi per la completezza di imprenditori e liberi professionisti. Abbiamo deciso di creare la lista Amaverona perché vogliamo dare la possibilità anche appunto a chi nella vita ha sempre lavorato e sviluppato la propria carriera sul lavoro privato, sul lavoro proprio di poter portare anche nella pubblica amministrazione le proprie competenze per cui non politici che hanno fatto solo politica nella propria vita ma appunto persone che hanno dovuto darsi da fare quotidianamente nella loro vita e poter così aiutare il prossimo sindaco, speriamo Patrizia Bisinella ad avere un'aggiunta o un consiglio di altissima qualità. Grazie a tutti.